Incanto è il nuovo corso di letture per il triennio della scuola primaria che favorisce un apprendimento facilitato e significativo. L'intero progetto si basa sulla centralità del noi, sull'empatia come garanzia di efficacia e stabilità dei risultati, sulla psicologia strategica. Fin da subito viene favorito il lavoro in coppia e l'aiuto reciproco, anche attraverso faccio e disfo così capisco, destinato a scomparire dopo essere stato interamente ritagliato. La musica è pervasiva e promuove le abilità fonologiche e il ritmo. La voce e le musiche sono del cantafavole Gianluca Lalli. Il percorso di letto scrittura si basa sul metodo fonosillabico animato, con le lettere che riprendono nella forma e nel suono la parola bersaglio. Non vi è mai una ripetizione monotona degli esercizi. Il metodo di incanto è disponibile sia nella versione tutto maiuscolo, sia nella versione quattro caratteri. Anche i numeri sono animati, le quantità sono organizzate percettivamente in cinquine. I problemi sono proposti come sfide creative. Larghissimo l'uso della logica. In tutti e tre gli anni, primi accenni per avviare all'educazione finanziaria. In seconda e in terza, i volumi delle letture propongono delle storie appuntate dalla forte carica emotiva. Anche i volumi di riflessione linguistica e scrittura sono accompagnati da percorsi narrativi di ispirazione rodariana. Il corredo docente prevede per ogni anno e per ogni materia una guida al corso con risorse didattiche supplementari da utilizzare durante tutto l'anno, i percorsi semplificati, i volumi valutare oggi, una sezione online con attività dedicate al sostegno e tanto altro. Inoltre un ricco corredo digitale e il libro liquido conforme alle indicazioni sull'accessibilità previste per il 2025. Incanto, il nuovo corso di letture per il triennio della scuola primaria.